Il progetto di già! E come Gesù, come il primo profeta, il progetto di una società che ama dei diritti per le donne, perché è sacra, dando la vita nel progetto. Per prima cosa questo è ogni vita che nasce, è ogni vita che c'è presente nel progetto e c'è solo un po' di tempo per farti sapere che c'è una via di uscita del progetto, di soggettà creativa. E nel progetto trovo tutti i miei ideali e anche di più, visto che l'unità del mondo è tutto insieme per sconfiggere il male che ora governa il progetto. Non lasciare la nostra ricchezza a quei pochi che portano odio, amore. Il progetto per la natura, per imparare dalla nostra spiritualità creativa. Il progetto per la natura, per imparare dalla nostra spiritualità creativa. Il progetto per la natura, per imparare dalla nostra spiritualità creativa. Il progetto per la natura, per imparare dalla nostra spiritualità creativa. Il progetto per la natura, per imparare dalla nostra spiritualità creativa. Il progetto per la natura, per imparare dalla nostra spiritualità creativa. Il progetto per la natura, per imparare dalla nostra spiritualità creativa. Il progetto per la natura, per imparare dalla nostra spiritualità creativa. Il progetto per la natura, per imparare dalla nostra spiritualità creativa. Il progetto per la natura, per imparare dalla nostra spiritualità creativa.